Ah, ancora l'inchiusi in questo parco. Maledizione! Chi sono quei dinosauri? Sfigati che stanno là sempre giù. Ah, chi c'è là su in cielo? Io sono Pterodattilo. Voi siete proprio sfigati, sapete? Eh, perché siamo nuovi. Eh, sì, vedo che siete nuovi. Comunque io conosco il signore Indominus Rex. O come il signore Indominus Rex? Sì, esattamente. Volete delle lezioni da lui? Sì, certo! Però abbiamo un po' di paura di lui. No, no, è buono. Ora vado a chiamarlo e le lo chiedo. Se vuole, vado. Chi? Oh mio Dio! Dovremmo essere allenati dall'Indominus Rex. Ecco, dinosauri! L'Indominus Rex ha subito accettato. Sta arrivando. Io sono l'Indominus Rex e vi insegnerò oggi una cosa, le cose. Questo sarà... Io verrò sempre qui a quest'ora e vi farò una lezione. Le lezioni cominciano da domani, ok? Sì, ok, ok! Allora vi saluto, ciao! Ecco, siete serviti? Allora, per te una bistecca, anche per te altre bistecche, per te insalata, anche per te insalata, bistecca al sangue. Ecco! Ciao! Ciao, dinosauri! Ciao, Owen! Che vuoi ora? Volevo solo salutarvi. Penso che questa notte dormirò qui con voi. Ora dormo qua. E anche questo episodio, ragazzi, finisce qui. E cliccate qui per iscrivervi al canale. E qui per non perdervi gli altri video. Ciao!